Cari amici, iniziamo la nostra marcia verso i luoghi dove 70 anni fa, quel 16 ottobre 1943, si consumò la deportazione degli ebrei di Roma, 1024 persone, 207 bambini. La fiaccolata parte, ricordando i nomi degli ebrei romani uccisi dalla macchina da sterminio nazista. Stanza di Porto, di 61, Benedetto di Segni, di 3, Umberto e Frati, di 32, Esther Sed, di 10, Gioia Sed, di 68, Italia Zarfati, di 3, Leo Zarfati, di 7. Secondo lei quello che è successo può riaccadere? Se perdiamo la memoria di quello che è successo 70 anni fa qui a Roma, sì, purtroppo può riaccadere. Dobbiamo essere sempre pronti, vigili, con la memoria, con le parole, con le preghiere anche affinché non succeda mai più. Purtroppo i testimoni, diciamo, dell'epoca diretti ormai sono rimasti in pochi e allora questa trasmissione della memoria è molto importante affinché si tramandi anche alle nuove generazioni e che non si ripeta mai più quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivati nell'ex ghetto i nomi diventano volti, visi di uomini, donne, bambini, persone come noi che ci potremmo trovare vicino al lavoro o essere i nostri compagni di scuola.